ciao amici e amiche è un video veloce siamo su fortnite c'è la modalità stra fighissima dei lego come ho fatto già vedere in un video è andata a vederlo che c'è anche il mitico mister zan e zan e boy che fa vedere un po come fare le cose e faremo altri video poi c'è anche la modalità festival che ho fatto un bel videozzo e adesso vi faccio vedere la modalità rocket racing modalità di gioco giochiamo benvenuti nella stagione di rocket racing ci sta modalità di gioco racing in classifica no no modalità normale remote allora sta cercando una partitozza preparazione andiamo a fare una bella garina garossa allora dai creatori di rocket league quindi credo che tanta roba e vediamo siamo in 12 e vai poi salta ormai questi quando ci siamo netta e a a a a a Va, va, va Niente male direi Eh si, dai Oli, spostati, 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 spostati oli 2 ma secondo la prima gara da cistari brutto è una gara classificata si è molto carino la prossima gara vediamo un attimo cosa succede bronzo 1 wow, 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 wow vediamo un attimo se riusciamo uh, guarda la pista dov'è? bello se fa cosa mi sa che è andato più veloce eh se fa cosa mi sa che è andato più veloce non 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 è fatta bene grafica 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 siiii primo sono arrivato primo no li sei arrivato primo vabbiamo manco bam 76% bello bello si psionics piste di psionics quindi le piste sono fatte dalla gente interessanti o forse no no li mi guarda piccola mia piccola ragazza papà sta giocando a fortnite leonardo sta giocando di la fortnite si qual è qual è la modalità di fortnite di video si 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 meravigliosa allora ragazzi io direi che devo giocare con una mano sola scusa scusa mi sono impegnato in una gara vai 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 Grazie a tutti bella questa pista delle belle drittate raga lai ok 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 per fortuna non ho fatto il tipo di lanciare inizi e queste cose qua per lo gare invece sapete bene che a Rotatrigger ci sono anche un sacco di episodi sul mio canale è il gioco con le macchine che bisogna fare loro quindi è un calcio con le macchine macchinoso un calcio macchinoso invece solo forse e la cosa mi piace non 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 grande ho lì il trattino ad amore mio sono arrivato a far pino sembra BAM che andiamo a bronzo due bella la prossima gara vediamo se ci sono ancora tutti siamo ancora due tre garette poi vediamo il video così vi faccio vedere le varie modalità però non è niente male corse lego battle royale normale battle royale con costruzioni senza costruzioni il festival tanta roba su fortnite in questo periodo lago languido come fanno avere il turbos a a a a a a a a non però Grazie a tutti. Vediamo che... guarda che è una scorciatola. Aspita, quando fai telegrappato lì, devo sbattere... Oh... 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 Ho tantissimo tempo, passate su Hot Wheels Unlashed 1 e 2, ragazzi io vi esorto a vedere i video di Hot Wheels, quello vecchio e quello nuovo. Tutti sul mio canale, basta cercare. Boom! Wow! Wow! Boom! 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 Allora, non ha capito come fanno davanti e indietro? Beh, come fanno davanti e indietro? Wow! Allora, lui bisogna saltare! anche qui si andava a saltare anche qui molto piccola e c'è corte che girata io spero che ritorgano dalla cosa di Fortnite lo mettono anche come giocatore cingolo perché è veramente fatto bene come gioco a pass capito raga lo so et Grazie a tutti. No, mi ha fregato la fine. Come va il quarto piazzamento? Scusami, cosa è successo? Perché quarto? Ah, perché sono una squadra, forse. Forse sì. E io sono singolo. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere. Mi ha fregato. Mi ha fregato sul finale. Non avevo... Non avevo... Turbo. Mi ha fregato, Oli. Sono arrivato quattro. Ci sta. Sì, vedete che arrivano tutti con lo stesso tempo. Eh, vabbè. E mi ha fregato, Oli. Comunque, ragazzi, se vi piace, scrivetelo nei commenti, mi raccomando. e iscrivetevi al canale di Marco e Drums Games. E facciamo un altro paio di partite e poi ci vediamo al prossimo gioco. Mi raccomando tanti dei One Edition, Avatar, tantissimi, tantissimi, Assassin's Creed, tutti i giochi usciti. Alla Wake 2, il mitico pluripremiato, Baldi's Gate 3. Call of Duty. No, non capisco come fanno loro ad avere il turbo. E schiacciano. Guarda che roba. E non è partita? Bellissima, proprio. Gli ultime gare sono partiti. C'è lì bisogna girare e si prende il turbo. Quello che ha fatto questa pinza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, se l'ha preso. Qui è combattuta? Guarda, 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 fa come va. Aspita. Aspita. No, 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 no. Pan! Secondo, quarto, perché c'è sempre loro. Aspita, che peccato. Eh, c'è sempre quello lì che fa parte di tre o quattro, quelli che sono, insomma. Dai, facciamo l'ultima. Per pochissimo lì, papà non ha vinto, per pochissimo. E poi l'ho quarto perché ci sono questi qua. Allora, la prossima è archi anarchici. la facciamoci, ci vediamo alla prossima, vittoria, amore mio, brava. Si è ritirato. Si è ritirato. Eh, beh, beh. Allora, dai, raga, facciamo l'ultima. Sì, andiamo, amore. Sì, andiamo, amore. Sì, andiamo, amore. E' molto bella questa modalità. Potrebbe anche essere un gioco a parte. Qua, con destra e sinistra, tanta roba. No, 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 no. No, no, no. Qua, con destra e sinistra. Questa, questa è proprio. Invece le altre effettivamente sono arrivato il secondo, era solo poi una questione che loro sono in quattro, questa invece me la sto giocando un po' male. Alla prossima. No, dai, e vabbò, alla fine è esploso, vabbè, peccato, 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 è esploso addirittura alla fine, sempre comunque quarti perché ci sono quei ragazzini che sono in gruppo, va bene. Figgiamo il 223, bam! Allora amici e amiche, Marco Drums vi ringrazia, vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio di Fortnite che sicuramente magari non so se faremo ancora queste modalità qui o sarà quella lego perché al Fortnite normale, vabbè, è un po' incasinato per me e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao amici e amiche, alla prossima! Da Marco Drums Games Channel è tutto. Rocket Racing Fortnite. Ciao, iscrivetevi al canale!